però si abbiamo ripeto siamo cresciuti in una società anche post ideologica in cui il muro di Berlino stava giù ripeto dovete anche capire che esiste una ragione come dire con tutto rispetto di età ovviamente insomma ognuno se la può ottenere liberamente e uniamoci sulle battaglie comuni e una battaglia comune appunto è quella e concludo di ragionare sull'Unione dell'Europa del Sud perché possiamo fare cartello assieme contro un potere centrale noi reputiamo e l'abbiamo detto in tutte le salse che il programma di Siriza ha delle ottime cose ma non lo realizzeranno mai restando nell'euro non lo realizzeranno mai per noi questo è fondamentale farlo capire ci sono diversi modi per uscire dall'euro iniziamo a contrastare questo mantra tutto quello che ci dicono se uscite dall'euro si svaluteranno i salari perderà potere d'acquisto la vostra moneta ci sarà una deflazione i mutui disoccupazione crescerà perderà potere industriale e competitività industriale del paese tutto quello che sta succedendo con la moneta unica se ci fate caso tutto quello che sta già succedendo oggi restando in questa moneta unica che la moneta a disposizione di un popolo una banca pubblica nazionalizzata che emette stampi moneta è un modo per dare a un popolo quindi a un governo un potere una politica fiscale monetaria e valutaria sono appunto degli strumenti per uscire dalla crisi giocarci tutti lo fanno l'hanno sempre fatto l'abbiamo fatto anche noi oggi non abbiamo questo potere attenzione questo è fondamentale iniziare a parlarne iniziare a rompere anche alcune mura di disinformazione come appunto sull'America Latina io ho avuto l'onore insieme a Maglio di Stefano e Marta Grande di conoscere e incontrare privatamente il presidente Evo il presidente Evo Morales della Bolivia e lui ci ha detto andate avanti a me si raccontava la stessa storia a me mi hanno eletto poi mi hanno espulci ho detto pure a me presidente anche a Maglio lei quanti giorni di sospensione ma pure voi ci avete la Boldrini perché a me ha dato 34 giorni di sanzione ma sono stato ampiamente superato da vari miei colleghi non so e paradossalmente le sanzioni che ha avuto il presidente Evo Morales li sono servite per farsi vedere differente in quel sistema che era un tempo il governo boliviano e forse servono anche a noi farci percepire in maniera totalmente distinta perché chi entra qua dentro e denuncia contro tutto e tutti si taglia lo stipendio lo restituisce alle piccole e medie imprese e crea un fondo di microcredito lavora di più degli altri si becca a qualsiasi tipo anche di minaccia credetemi perché quando facciamo certe denunce non è così facile le minacce arrivano non lo dire più la mia collega è lì Maria Della Spadoni della commissione affari esteri per aver nominato nella sua terra Emilia la rossa e comunista Emilia aver nominato il clan Grande Aracri gli sono avvicinati i tre energumeni a una parlamentare della Repubblica lì dicendo lei non deve più nominare e gli andranghettisti non le deve più nominare qualcuno che gli aveva detto l'hanno poi messo al gabbio qualche settimana fa nell'operazione Emilia e lei ha avuto il coraggio in quella terra rossa e ben amministrata dal Partito Democratico di denunciare le infiltrazioni della mafia ecco oggi i popoli reputiamo che si debbano unire chissà che alcuni esempi dell'alber ringrazio appunto la vostra presenza di cuore non ci possono fornire degli elementi utili su quali ragionare tenendo presente che chiaramente quanto tempo ho ho finito che il Sud America e il Sud Europa sono evidentemente diversi anche con delle storie diverse certamente però possiamo imparare qualcosa dal loro esempio loro hanno fatto in sostanza cartello hanno capito che da soli venivano schiacciati con colpi di Stato con omicidi di uomini politici democraticamente eletti come iende oggi uccidono anche i nostri di cambiamento magari non lo fanno più con sicari e con colpi di Stato come dire spiattellati ma lo fanno rieleggendo lo stesso Presidente della Repubblica per la seconda volta di fila anche questi sono colpettini furbetti di Stato andando contro la Costituzione lo fanno sventrando la Costituzione di notte come i ladri un partito solo che non ha una maggioranza reale nel Paese ed è maggioranza la Camera dei Deputati esclusivamente con un premio di maggioranza incostituzionale che è quello del Porcello ma hanno cambiato la Costituzione io vi ringrazio io vi ringrazio mi dicono di chiudere ringrazio Gianni Minac che è un esempio per me di giornalismo un esempio vi ringrazio tutti quanti e andiamo avanti e facciamo passare le informazioni grazie grazie Alessandro ora cambiamo i relatori perché ci avviamo alla seconda sessione due minuti esatti per sgranchire le gambe grazie